Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati dal vostro amico Lipiduel 200 siamo qui oggi ancora su Outlast Whiteblown L'ultima volta abbiamo scoperto che dovevamo disattivare il gas Anche se sinceramente non mi ricordo più come... ah che è di qua Quante pile ho ancora? Uno You know what it is? Prova ad alzarti un pochino il microfono Come? Così? 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 Ok, eh sì Qua cosa c'è? Niente, allora c'è qualcosa ma... Non so, verso i 10 minuti toccherà, ah giusto prendi il tempo Eh, hop Sì Mi faccio io 1, 2, 3, 4 5, 5, 5, 5 No, satata, satata, it's up E' la mia E' la mia E' la mia E' la mia Sì Salve Già Ma Potete loan aggi�ar testato ce l'ho conosciuta un'altra volta che vuoi a picchiare Ok anche l'altra volta ero qua però non sapevo No si sapevo cosa fare Dalla madonna Lì c'è una pila Come no? Ah no Me la tirano in testa le lapidi Sti stronzi Non si vuole andare a schiantare Perché tremano le luci? Mi hanno paura Mi stava venendo un colmo Quella porta Cosa pensavi quello dell'altra volta? Vedi? Ma a me non mi piace quando devi ricaricare la batteria sinceramente A me mi si dice A me mi si non dice Cosa è sto coso qua? Una pillola Prima il coso per saltare in aria? L'elettroshock Non lo so Secondo me mi incurano Da cosa l'ho dubbio? Dal rumore che sento Che cazzo no 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 Sali 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 Ma che cazzo è che mi seguiva? Era un pavimento Ma tu non lo so Ma mi sono cagato sotto Era un figlio di puttana che mi seguiva Non me l'aspettavo Io non esco Io non esco No Ti sento a Milano se urli va bene No In curativo No No Vedi che arrivano i miei godi Devi scappare di qua Zio smadonna Bambini marocchi No ma è solo un esorcismo Sta Come dirci Sta trasmettendo il verbo di satana Io satano Tu satani No sataniamo Eh sì Si satano Si satano Si satano due tre 4-5 Questa no Questa sì Dai Ti faccio io Tu adesso presto attenzione a me Non lo so Seguo le frecce Che cazzo è successo E l'ho trovato così Io ho usato così Com'è te che cazzo è successo Com'è te che cazzo è successo Gas Gas Oh ma qualcuno teneva tempo No 4-4-20 Cosa 4-20 4-20 4-20 Cosa 4-20 Era almeno 15 No 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 Guarda lì Guarda lì Ah guarda lì Ho fatto un 190 Toio E' uscito da l'alpha di The Forest si? è leggero? eh non è male è un survival horror e non tanto horror non troppo horror lo so che c'è vero ma c'è l'aero qui non urlare fuga silenziosa eh deve essere un coglione per non guardare sotto l'unico letto della stanza vuota a parte che vuoi vederlo anche senza guardarci sotto no è buio no no mi vede mi vede mi vede mi vede non 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 mi vede no la parola di sede perché si può si mettere non mi vede oltre due o quattro non lo so si lo so l'ho sentito Già partiamo a morire? Mi ha rotto il culo Mi ha rotto il culo Mi ha rotto 30 Uffa il culo Ma non puoi tu prendere una tanica e fare lì a sionare l'ecco in testa Salama l'ecco E' fotogenico Uma Adesso tu sei qua La on Qua c'è la luce se non ti vede il loro picchio veramente No Aspettate eh Io c'ho la tecnica Allora Ma questo qua c'è La logica di questo gioco Guardagli le dita Ma così c'è l'apo per te Sì Zitti zitti che non l'ho scelto Zitto 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 No Ok possiamo andare Ok possiamo andare Ma lui è un genio Ma c'ha Ma ha segato una porta No no è lì Cioè io ho già fatto tutto ninja fino adesso per cercare di evitarti Zitto 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 z serve urlarlo ma hai finito di farmi prendere gli infarti tu brutto bua bui ho finito di urlare ok 10 minuti ce l'ho passato chi va? no si avevamo 10 minuti a testa e tu ho la serie di giocarci te? eh ma non è vero lui ti ha finito il gioco l'altra volta non è vero il computer è mio quindi toccato la mia parte è toccato solo a te io la mia parte l'ho fatta fino a ieri guarda che non mi vede ancora ma non so cosa devo fare vedi quelli della apple quelli della apple sono quelli della apple tenero 7T vai mona 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 vai Ma Dio voia! Non è neanche un nemico il tuo cacciatore Ma morirai? AHHHHH! Forza Dioia! Mi sono spaventato! Non spaventarti? Non ci riesco Ho detto ci sono delle flash assurde Il prossimo ultimo è una macchina Non ci svegli Io basta Gio Gio Fai cambio Aspetta ancora Se ce la faccio eh Se no vai tu Ma questo qua ecco Tanto le mie tecniche sono sempre le solite no Faccia da Faccia da letto stessi Camperati Camping the corner Figa 12 minuti A correre come dei coglioni e urlare E non lo so devo andare a trovare la stanza perduta del gas Però il bastardo vicino lo sento la motosega Vedi qua non posso L'ho visto Eh Il 7T Vedi che non mi ha preso però gli ho fatto... gli sono saltato fuori e gli ho fatto il 7T Ma a me lo preatta sempre il culo Cioè non so cosa devo fare Non so dove devo andare Qua mi sono ucciso da solo Ma vedi qua non si può Cioè non ha un exit Ma lì c'è una porta Ma lì c'è una porta Ma lì c'è una porta Ma può farci Non è l'uomo più intelligente del mondo Vedi mij 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 Vedi-mi ragazzi questa qua è l'unica scena di outlast in copo che ma sono slambrate le cuffie ragazzi mi stanno troppo larghe esci che cazzo sensibilità c'hai? mi ricordo più i tasti W e avanti lì ce l'ho arrivato grazie sinistra intera gcf notturna a destra telecamera e shift gore oh oh vaffanculo dio oddio perfetto e' un genio non è che ti prendi su ti taglia le gambe vedo un cazzo perfetto e' un genio perché andiamo fuori e' ma non conosco il posto non vale e tu non eri attento con il posto ci vediamo bene o' la volta scorsa arrivato qua no la volta scorsa l'ho avvenuta Yess is back allora che cazzo vuoi? Yess is back eh va bene Yess is back e' e' e quindi cazzo mi frega la canzone niente niente e' non c'è cosa per vedere gli obiettivi che è il tavolo notte madonna se muoio eh vabbè grazie ah chiudi il gas per te la camera stagna la camera stagna era quella bra eh ragazzi 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 immer non ma bra eeeh fa un culo eh mi hai già inculato basta capito io chiudi dopo 3 6 che armadio ma posso entrare ah no perfetto sono inculato 2 2 ciao zio cos'è un attimo ma si si era sposato per farti passare dai vabbè si è preso l'infantino pari beh però ti ho tirato il suo primo ma di quale stanza c'era chiudere il gas quella la cioè tutti devi trovare il tasto non è che devi usare il computer ci sarebbe troppo facile ma dici il caffè cambiamento ma sono entrato prima ma visto dove era luce accesa luce accesa tutto acceso letto alto ma si è castrato non solo questo qua letto alto tipo 40 40 centimetri no? guarda che lì sul copino c'è la pila posso adesso usiamo i cheat eh? no oh vi sentite ancora la scega ah ciao no ma i vieni ora sei vieni ora fantastici piccolino che cazzo fai? non devi toccarmi tutte le cinti devi toccarmi tre goli quindi mi si rompe il video quando ho il mal di gola qua non posso c'è il telo no? che tipo nella vita reale da una cappucciata lo punti giuro lo slambri ecco la cappuccia da baston di gola buh eh con l'idea delle cappuccia ce lo fanno questa la dolla spegnere che sali dio boia gas room salve ma se ci fossi io qua guarda se ci fossi te cose ci fossi trovati 400 volte ma se sei coglione ci volevo io comunque dai dai apri la porta se ne parli è nativo no non si può non posso sfondare la testa sfondi le cose quindi adesso posso entrare nella cosa ok e vado ancora di là che senso ha troppo devi tornare indietro devi andare tipo la tua torta ma se che cerchi la torta l'acqua mi ha detto che c'era il gas che era chiuso mi ha salutato qui e quindi adesso adesso torna tutto indietro qua no dietro di rio di qua eh si dove sei venuto sai che c'era dove c'era dove sono venuto eh adesso non ah devi andare ecco lì lì nella porta rosa no no si vabbè adesso torna indietro 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 adesso via via ah adesso è aperto che cazzo grande lipid grazie oh ah 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 ma fatti cosa era successo oh oh catroni si sta masturbando su di te c'è una pia questo qua eh ci vedo ah adesso c'è la porta dove è morto quello soffocato di qua però lì è morto hot oddio ho capito bene ragazzi il video per oggi eh deve appoggiarsi lui c'è no tocca ti taglio un dito andiamo avanti no no posto ok no no ci troviamo qua qua così qua bene ragazzi il video per oggi può finire qua ehm votate e commentate e al prossimo video ciao